Fun! Numbers! Non mi fermerò finchè non mi darete le sfere del drago! Diego, Luis, correte! Dove si trovano? Dove sono le sfere del drago? Ah, eccole! Wow, dovrebbero dare una pulita a questo posto! È un vero Letamaio! Perché ha fatto questo, signore? Volevamo solo salvare il nostro villaggio dalla carestia! Dannato esercito del Fiocco Rosso! Non puoi fregarmi! Carot! Sono sotto il controllo di Babidi! L'unico modo in cui puoi salvarmi è lottare qui e ora! Ah, mi prendi per il culo! Cosa c'è adesso, Vegeta? Goku, aiuta! Cosa? Oh, scusami! Ho fatto solo un brutto sogno! Hai appena chiesto aiuto a Carot! Perché dovresti chiedere aiuto a Carot quando io sono proprio qui? Ne abbiamo già parlato mille volte, Vegeta! Buonanotte! Farai meglio sfidarmi subito, Carot! Prima che faccia saltare in aria questa intera arena! Ecco perché... Babidi mi sta controllando! Perché diavolo Vegeta crede che me ne freghi qualcosa se fa saltare in aria all'arena? È davvero così stupido da non aver capito che sono io il vero cattivo della storia! Voglio dire, pensa agli androidi che sono stati creati a causa mia e Sam creato per assorbire il mio potere e Majin Buu... ...liberatosi dopo che ho consentito a Vegeta di inviare la mia energia a Babidi durante il combattimento! Altrimenti perché la prima cosa che ha fatto Majin Buu dopo essere reinato è stata attaccare Goi! Aspetta! Niente di tutto ciò è ancora successo! Come diavolo faccio a sapere tutto questo? Fallo! Cosa? Sei uno psicopatico! Ho detto fallo Vegeta! Stavo solo scherzando Carot! Che problema hai? Se non lo farai ucciderò Bulma e Trunks all'istante! Ti prego Carot, non costringermi a farlo! Vegeta! Non sono più cattivo te lo giuro Carot! Sono un uomo cambiato! Fallo! Dirò a tutti che è stata colpa di Babidi! Questo non è nemmeno un vero marchio di Babidi! Ho rubato l'adesivo dall'astuccio di Trunks! No! Non farlo! Ehi! Che sta succedendo laggiù? Ritengo ci stia dicendo di doversene andare esattamente tra 5 minuti! Già! È quello che pensavo anch'io! D'accordo! Lo farò! Sei contento ora Carot? Ragazzi! Vedete è diventato di nuovo cattivo! Non è nemmeno controllato da Babidi! Ha deciso da solo di uccidere quei civili innocenti! Presto gente! Fermiamoli insieme! CAROT! Cosa crede di fare? Distruggerà l'intero pianeta con un attacco così potente! Presto Carot! Usa il tuo trasferimento istantaneo per portarci via da qui! D'accordo Vegeta! Ma posso portare con me solo tre persone! Gli altri moriranno! Nessun problema! Li riporteremo in vita con le sfere del drago alla fine! Assicurati di prendere me e altre due persone che possano aiutarci a sconfiggere Boo! Aspetta un attimo! Se lascia morire Dende, gli altri non potranno essere resuscitati con le sfere del drago! Potrò finalmente allenarmi in pace! Levati di dosso, Berne! Dannazione, è riuscito a salvarsi! No dico Dende e Mister Satan! Sul serio Carot! Ti rendi conto che Gohan poteva sconfiggere Kid Boo da solo con la sua forma finale, vero? Sì, lo so, ma Mister Satan è piuttosto divertente, no? Ti detesto, Carot! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti! Alla prossima! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubbliciamo! Ciao!